Con Daniele Campanelli, Presidente dell'Associazione Life Follows, parliamo della strada provinciale 11, Silla Trinità. Cominciamo dall'attualità perché questa notte c'è stato qualcosa di veramente incredibile. Hanno rubato i semafori. Eh sì, purtroppo questa notte i due semafori posti in sicurezza appunto al ponte che si sta allargando sul territorio di Sala Consilina purtroppo sono stati portati via da persone che non sappiamo da chi. Purtroppo un gesto appunto brutto da condannare soprattutto chi ha rischiato di mettere in serio pericolo l'incolumunità di coloro che transitavano su questo tratto di strada soprattutto perché i semafori si trovavano in una zona dove non è presente l'illuminazione pubblica quindi è ancora più pericolosa il loro furto. Quindi in questo momento si sta cercando di ovviare a questo furto? Sì, si sta cercando un attimo di mettere in sicurezza in attesa appunto che arrivano i nuovi semafori. Nei giorni scorsi c'è stato un appello lanciato dal consigliere comunale di Sassano, Valentino Di Brizzi che ha detto benissimo i lavori che si stanno facendo e che sicuramente hanno allargato la carreggiata della strada provinciale 11 però proprio perché il resto della carreggiata è stata allargata diventa ancora più pericoloso l'attraversamento del ponte sul fiume Tanagro. Qual è la tua opinione? Purtroppo sì, Valentino ha ragione, rimane questo grosso pericolo del fiume Tanagro. Purtroppo è un pericolo che è difficile porre una soluzione soprattutto perché su quel ponte esistono diversi vincoli imposti appunto dalla sovraindendenza. Ovviamente già ci siamo attivati già da tempo per cercare un attimo di ragionare, di far capire appunto che quello può essere dopo l'allargamento dell'intero tratto di strada è un vero e proprio pericolo. Prima avevamo il pericolo del ponte Tanagro verso Silla dove diverse macchine sono cadute anche senza per fortuna gravi conseguenze in uno dei canali più pericolosi su quel tratto di strada. Adesso sicuramente sarà il Tanagro il pericolo della strada. Già la provincia ha messo sul progetto diversi segnalatori, anche luminosi, per segnalare questo pericolo e l'estringimento. Ovviamente il mio obiettivo, io spero di continuare su questa scia che ha permesso i lavori sulla SP11 e portare alla realizzazione anche di questo allargamento. Quindi in questo momento l'ostacolo più grande è quello della sovrintendenza? Sì, su quel ponte sì, ovviamente è un ponte di epoca romana, molto bello, però ovviamente noi dobbiamo pensare a quella che è la sicurezza della gente, della sicurezza di chi percorre sull'asse più 11, una strada appunto stata sempre molto pericolosa, diversi incidenti stradali e che finalmente siamo riusciti a sbloccare grazie anche alla provincia che ha ascoltato le nostre richieste. Un lavoro che doveva finire soltanto nel tratto di Silla con l'allargamento di alcuni ponti più pericolosi, ma adesso come appunto possiamo vedere è arrivato anche nel comune di Sala Consilina, siccome appunto ho cercato sempre di più di coinvolgere la provincia di appunto stare dietro affinché tutto il tratto di strada possa essere messo in sicurezza.